A messaggio in codice, se così lo si vuole intendere, la CGL risponde con un suo personale messaggio, questa volta quanto più esplicito possibile. Nessuno spazio alle intimidazioni. E questo è il senso del sit-in organizzato davanti alla sede barese del sindacato, dove tanti sono stati lavoratori, gli studenti, i rappresentanti sindacali e delle istituzioni e i sostenitori riunitisi per esprimere la ferma condanna nei confronti dell'atto vandalico che nella notte ha deturpato l'esterno della sede di Vialoiacono, con scritte complottiste e ineggianti la violenza. Atto vandalico che per i rappresentanti locali di CGL suona come un vero e proprio atto terroristico. Qui si tratta di atti che hanno un progetto ben preciso, che è quello di attaccare le nostre sedi, di attaccare le sedi del sindacato confederale, di attaccare le sedi della democrazia, di attaccare quindi quei luoghi dei soggetti della rappresentanza collettiva che difendono i lavoratori, che tengono insieme anche la lotta per i diritti civili con i diritti del lavoro e quindi in gioco è la tenuta democratica di questo paese. Un ritrovo collettivo davanti a quella che è considerata la casa dei lavoratori e della democrazia per sensibilizzare la collettività ma soprattutto le istituzioni ad alzare il livello di attenzione nei confronti di tali espressioni di violenza. Un ritrovo nell'ambito del quale è risultare assordante secondo CGL e il silenzio di tutti coloro che pur essendo nella possibilità e autorità di farlo non hanno espresso alcun tipo di sostegno. Ci ha sorpreso l'assenza completa dei rappresentanti della destra istituzionale eletta magari anche all'interno di questo territorio. Non vi è stata una manifestazione, un'attestazione di solidarietà e di vicinanza da parte dei rappresentanti istituzionali di destra eletti purtroppo all'interno di questo territorio. Non un atto di folklore Novax dunque ma una scia di violenza concreta sulla quale indaga attualmente la scientifica e per la quale CGL chiede che sia attivata una stask force tra le autorità competenti per scongiurare il rischio che tutto questo degeneri ulteriormente.